Con il numero 1 che è affidato a Susanna OP, numero 2 per Squatjet, al numero 3 Secret Love RSM, al numero 4 Spinello Jet, al numero 5 Salsa I Merengue, al numero 6 Smash Slide SM. Betting molto aperto, con al momento Secret Love RSM, ruolo di favorita 2.65, Squatjet 3.10, Smash Slide SM 3.41. La macchina ha già iniziato il suo percorso di avvicinamento al punto di stacco. L'arriamento che si va completando, Prudente, Secret Love RSM, così come Smash Slide SM. Gli altri a giocarsi la partenza. C'è l'errore, prima dello stacco per il numero 2, Squatjet. A comando, scivola così con il 4 Spinello Jet, che si porta in testa, a precedere Salsa I Merengue. La squalifica che coglie Squatjet, Salsa I Merengue, che potrebbe accodarsi, ma ancora non lo fa. Ecco, lo fa ora, a metà della piegata. Terza posizione, a distanza, per Susanna OP, che precede Secret Love RSM. Si va così al completamento dei 400 metri in 29.4, con sempre al comando Spinello Jet, che ora prova a moderare l'andatura. Salsa I Merengue, che è alla sua schiena. Cerca di rifarsi sotto ora Secret Love RSM, con una frazione abbastanza veloce. 45, il passaggio di 600. Secret Love sul passo, va ad affiancare Salsa I Merengue, che giunge al sediolo del leader Spinello Jet. Tutto ciò, mentre si va sulla piegata di sinistra, e il paletto di metà gara viene oltrepassato in un minuto e sette decimi. La squalifica che coglie anche Smash Slide RSM, e quindi davanti Spinello, che ora prova ad allungare di nuovo di fronte, per fiaccare il tentativo di rimonta esterna di Secret Love RSM. Il chilometro in 1.15 e 7, per Spinello. Secret Love, che è lì al suo sediolo. Salsa I Merengue, ancora in schiena, a precedere Susanna OP. Tre quarti di miglio in 1.29 e 8.14, appena abbondante riflessione, per Spinello Jet, che continua la sua marcia al comando. Sta per imboccare l'addirittura d'arrivo dal leader, con un leggero allargamento da parte di Secret Love RSM, che perde qualche metro e allora potrebbe sgabbiare Salse I Merengue. Ci prova Spinello, che è chiamato. All'interno si fa vedere Susanna OP, che trova un corridoio bellissimo. Susanna OP, che nel finale si distende e viene a concludere nei confronti di Salse I Merengue, che a sua volta sopra avanza squaggetta. Andiamo a rivedere con Susanna OP, che sullo spostamento di Salse I Merengue e l'allargamento leggero di Spinello Jet, trova un corridoio interno assolutamente propizio. Nel finale Riccardo Pezzatini riesce a sopravanzare tutti, a mettere tutti d'accordo. Il numero 1 al primo posto è 1.58 e mezzo. Il tempo totale per Susanna OP, che precede nel finale Salse I Merengue, ancora una volta seconda, mentre per il terzo rimane in quota. Ancora Spinello Jet.